La battaglia di Adrianopoli, una disfatta epocale per l'impero romano. 9 agosto 378 d.C. La piana di Adrianopoli, in traccia, si tinge di rosso. Lo scontro tra l'esercito romano, guidato dall'imperatore Valente, e i visigoti di Fritigerno si trasforma in un massacro. Le armate romane, colte di sorpresa e inferiori numericamente, vengono annientate. La battaglia di Adrianopoli rappresenta una disfatta epocale per l'impero romano, con conseguenze di vasta portata. Le premesse, l'invasione dei visigoti, nel 376 d.C., i visigoti, spinti dalle pressioni degli Unni, attraversano il Danubio e cercano rifugio nell'impero romano. L'accoglienza tesa e la gestione inadeguata da parte delle autorità romane sfociano in malcontento e ribellione. La guerra civile, l'imperatore Valente, impegnato in una guerra civile contro suo fratello Graziano, si trova in una posizione di debolezza. Le sue forze militari sono disperse e disorganizzate. La battaglia, lo scontro avviene in una giornata affosa di agosto. I visigoti, abili cavalieri e guerrieri esperti, sfruttano la superiorità numerica e la loro conoscenza del terreno a loro vantaggio. La cavalleria romana viene decimata dalla tattica di accerchiamento dei visigoti. L'afanteria, disorientata e senza ordini precisi, cede sotto il peso dell'attacco. Lo stesso imperatore Valente cade in battaglia, evento che demoralizza ulteriormente le truppe romane. Le conseguenze, la disfatta di Adrianopoli segna una profonda crisi per l'impero romano. L'esercito, già indebolito da decenni di guerre interne e pressioni esterne, subisce una grave perdita di prestigio e capacità difensiva. L'invasione dei visigoti si intensifica, saccheggiando la traccia e minacciando Costantinopoli. L'impero è costretto a cedere ai visigoti terreni e tributi, indebolendo ulteriormente la sua autorità. La figura di Valente viene dipinta come quella di un imperatore incapace e irresponsabile, contribuendo al declino della dinastia costantiniana. L'eredità di Adrianopoli La battaglia di Adrianopoli rappresenta un punto di svolta nella storia dell'impero romano. Il mito dell'invincibilità romana viene infranto, evidenziando le debolezze interne e la vulnerabilità dell'impero alle invasioni barbariche. L'evento accelera il processo di disintegrazione dell'impero romano, che si dividerà definitiva ente in due parti, occidentale e orientale, nel 395 dc. La memoria di Adrianopoli rimane viva nella memoria collettiva romana come simbolo di una disfatta tragica e indelebile. Oltre la battaglia, la storiografia ha analizzato la battaglia di Adrianopoli da diverse angolazioni, evidenziando le cause della disfatta e le sue implicazioni storiche. La figura di Fritigerno, il leader dei Visigoti, è stata rivalutata, riconoscendogli abilità strategiche e capacità di leadership. La battaglia ha avuto un impatto significativo sull'evoluzione della guerra e della politica nell'Europa tardoantica. Conclusione La battaglia di Adrianopoli non è solo un evento militare, ma un momento cruciale nella storia dell'impero. La battaglia di Adrianopoli non è solo un evento militare, ma un'impero, ma un'impero. La battaglia di Adrianopoli non è solo un evento militare, ma un'impero. La battaglia di dizendo in realtà sono un evento militare, ma un'impero, ma un'impero. La battaglia di convivencia dell'impero di引icolo, ma un'impero. Grazie a tutti.